Nessuna apertura posticipata al 20 settembre a Pescara la prima campanella suonerà il 13 secondo calendario. A confermarlo è il vice sindaco assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Noi come scuole per quel che riguarda dalla primaria alla scuola media siamo prontissimi. Il 13 partiranno le scuole anche dei superiori ma noi siamo prontissimi. Il giorno 20 addirittura noi mi sono già messo d'accordo questa mattina con la Serenissima partiremo anche con la mensa per i bambini. Quanto riguarda le vaccinazioni proseguono a buon ritmo soprattutto dei ragazzi, degli studenti e anche del personale scolastico. Anche questo ho delle ultime notizie. Praticamente come personale siamo arrivati quasi al 95% di vaccinazione quindi sono in pochi che sono rimasti che devono ancora andare a fare il vaccino. Risolto questa mattina anche il problema del trasporto da San Silvestro degli studenti della scuola Benedetto Croce. Voi sapete tutti che la scuola Benedetto Croce è stata chiusa e quindi andremo in altre quattro portazioni. Nostra signora, Antonelli, via Rubicone e via Scarfoglio la scuola primaria Pineta. Abbiamo trovato un'ottima soluzione quindi i genitori possono stare tranquilli. I ragazzi partiranno da San Silvestro presumibilmente alle 7.20 e arriveranno a scuola regolarmente alle ore 8 per entrare alla prima ora.